Battistini, finisce oggi la stagione dell'Aquila, ma a questa squadra vanno solo applausi per quello che è riuscito a fare in una stagione dalle mille avversità. E non è retorica questo? Mi sento solo di dire grazie ai ragazzi, speravo di prolungarla in un'altra partita, ma sinceramente siamo arrivati qui veramente molto stanchi, sia fisicamente che mentalmente. Credo che abbiamo fatto anche un buon primo tempo, perché abbiamo fatto bene il pallino del gioco, abbiamo impedito il Matelica di giocare. Abbiamo preso un gol sciocco su rigore che poteva, anzi ha indirizzato la partita in una certa maniera, però il Matelica è venuto fuori con la sua forza. Noi praticamente, pur avendo avuto il possesso per larga parte della partita, non abbiamo praticamente mai concluso in porta. Quindi onore al Matelica che ha vinto la partita, passa il turno e probabilmente è anche più attrezzata di noi per affrontare la finale. Abbiamo visto anche un'Aquila un po' scarica mentalmente, oggi forse tutto questo è dovuto a quello che era successo anche nelle ultimissime settimane, negli ultimissimi giorni. Ma sì, anche aver raggiunto questo, chiamiamolo obiettivo, di avere fra i primi cinque, che era l'unica cosa che potevamo chiederci, anzi forse molto più di quello che potevamo chiederci, è come se fosse stato aver varcato una linea. Mi dispiace perché sono convinto poi, parzialmente in campo abbiamo fatto tre, la partita si poteva giocare e comunque provare a lottare fino in fondo. Peccato che posta il primo gol, quel rigore in quella maniera che potevamo evitare, aveva subito il raddoppio nel stesso tempo dopo essere partiti bene, dopo il cambio di Boucher ci ha un po' ammazzato. Però ti ripeto, il Matelica ne ha molta più di noi sotto ogni punto di vista, complessivamente dal punto di vista tecnico, ovviamente motivazionale, e ovviamente non è neanche lo sto dire societario. Da domani per l'Aquila inizierà un'altra partita più importante sicuramente di quella di oggi, una partita per cercare di salvare questa società, questi colori e questa tifoseria. Battistini, cosa si sente di dire? In questo momento non vedo sinceramente grosse possibilità perché non vedo nessuno che sia mosso in maniera decisa per salvare queste cose che hai detto tu. Questa squadra sicuramente nessuno e questa società, non lo so se qualcuno avrà interesse di farlo o meno, ma oggi sembra che la via sia quella di andare in liquidazione, quindi non vedo grosse prospettive. Purtroppo i partiti devono preparare diversamente che pensate queste cose a cercare dei rimborsi che non arriveranno. Però questo è stato, non abbiamo mai cercato scuse quando abbiamo vinto, non abbiamo mai detto che siamo stati bravi e non le cerchiamo quando non perdiamo. Il discorso poi della tifoseria sarebbe necessario ovviamente che si ricompattassi, mi auguro che verranno squadre anche migliori della nostra riusciano a ricompattare una tifoseria come quella dell'Aquila che vederla così sparuta in una partita del genere. Io che ho vissuto i 14 mila dei fattori quando giocavo nel 92 e gli 8 mila del Flaminio, dico boh, non è possibile. Mi auguro che rinasca qualcosa che possa dare all'Aquila il futuro che merita come città e come storia calcistica. Queste parole sanno di saluto di Battistini all'Aquila, quale sarà il suo futuro? Si era parlato nei giorni scorsi anche di un interessamento della Vastese nei suoi confronti. Grazie a cielo ho avuto un po' di chiamate, dico grazie a cielo perché il lavoro per noi è importante e purtroppo io in questo progetto, in questo lavoro all'Aquila credo di aver dimostrato di aver dato forse più di quello che avevo insieme ai miei ragazzi e quindi avrei continuato volentieri anche con un'idea di continuerei, non avrei continuato perché comunque sia un miracolo, uno lo aspetterebbe sempre, continuare il mio lavoro se fosse possibile, se non fosse possibile ovviamente non potrei continuare. Io ho amato quest'anno e mezzo all'Aquila che mi ha dato moltissimo dal punto di vista calcistico e dal punto di vista anche umano e tante cose potevano andare diversamente, però sono felice e soddisfatto di questa esperienza e credo di portare nella valeggia un bel ricordo.